Musica Ciao gentaglia, sono ShotaHateU e questo è Breaking Italy, lo show che vi è ronda da lunedì al venerdì nel quale parliamo di cosa succede nel mondo e differentemente da tipo tutti i giornali del mondo, parliamo anche di altre cose, oltre l'ultima puntata di Game of Thrones l'avete notata questa cosa? Ultimamente ogni volta che esce una puntata di Game of Thrones nelle 24-48 ore successive è pieno, strapieno di articoli sulla puntata di Game of Thrones il che ci sta, io sono contento che ci sia così tanto excitement attorno a una serie tv che davvero, davvero merita però c'è sempre un troppo, un certo punto è troppo e quindi quale modo migliore di mostrare una grande ipocrisia che mostrarvi questa gallery fatta da College Humor non so se conoscete questo sito, fa della roba simpatica, altra meno simpatica ma a sto giro sono bellissime perché sono le bandiere di alcuni siti internet come sarebbero se fossero delle casate nobili di Game of Thrones alcune sono davvero davvero belle, Reddit è sicuramente la mia preferita e ovviamente c'è anche quella di Google che peraltro, parlando di Google, in questi giorni è al centro di una grande bufera e state attenti perché sto per aprire un vaso di Pandora quel vaso di Pandora che si chiama Google Plus è quando ho aperto scatena le ire dei fan del sito normalmente contro di me che non sono un grande fan, al contrario, di Google Plus o di tutte le altre persone che dicono Hey, ma Google Plus è una merda quindi potete iniziare a litigare ma il fatto che devo lanciarvi in faccia oggi è che è piuttosto interessante è stato il fatto che Vic Gundotra, quest'uomo qui che magari non sapete esattamente chi è però molti di voi potrebbero averlo già visto abbandona Google Plus e dico, potreste averlo già visto perché è molto presente dato che per molti anni, quasi otto apparentemente, è stato il capo, la testa e viene definito anche il capo evangelista della chiesa di Google Plus è la persona che si è occupata per otto anni di tutto il mondo social che ruota attorno a Google e che adesso non si sa bene dove andrà ma ha annunciato che lascerà il progetto Google Plus al che ovviamente la cosa ha spaccato immediatamente l'opinione dei vari opinionisti e siti che si occupano di queste cose che in realtà sono molto più autonevoli di quanto sto lasciando intendere perché hey, sono uno stupido, mi conoscete ma parlare di queste cose sono sia Forbes che TechCrunch e questi ultimi appunto fanno anche sapere che non solo quello che era il capo di Google Plus se ne sta andando ma molti dei dipendenti che erano destinati al progetto Google Plus parliamo di circa 12.000 persone sarebbero un ruota di riallocazione verso altri progetti principalmente verso Android immediatamente Google ha messo le mani avanti ha fatto sapere che nulla cambierà nonostante il primo profeta di Google Plus se ne vada la piattaforma rimarrà solida e l'azienda ha intenzione di investirci sopra però appunto molte aziende specialiste nel settore come TechCrunch si chiedono è vera questa cosa? perché effettivamente quando si vanno ad analizzare i numeri di Google Plus sono grandi sono circa 300 milioni di utenti iscritti al sito però giusto per fare l'antipatico quante di queste persone che sono effettivamente iscritte a Google Plus lo usano e quante invece sono state tendenzialmente obbligate a farsi un account in Google Plus per continuare ad utilizzarne i servizi sarà interessante vedere dove questo cambiamento andrà se è effettivamente un cambiamento o è semplicemente una bolla ma il punto è che quello che vediamo in questo momento è che Google Plus dopo molto tempo non è comunque in riuscita a farsi piacere alla maggior parte del pubblico e quello che stiamo guardando è un disastro di marketing a questo punto la piattaforma potrebbe essere la più bella in assoluto molte persone continueranno a dire che è una merda semplicemente perché le hai obbligate ad utilizzarla comunque ipotizzo che in futuro i prodotti di Google continueranno ad integrarsi io lo spero Google è comunque una piattaforma fantastica è un'azienda fantastica che tanto per intenderci continua a lavorare a cose fantastiche quelle che state guardando infatti sono le immagini che dovrebbero spiegare un pochino e sono state rilasciate proprio da Google come funziona il sistema della macchina che si guida da sola magari vi eravate dimenticati infatti che Google sta lavorando a questa cosa e per dimostrare che non è semplicemente una di quelle cose che prendi e lanci sulla stampa boh beccatevi questo parlate di questo ciao ma è proprio qualcosa sulla quale stanno lavorando blam questo video che è un po' spaventoso per quanto mi riguarda perché la sola idea è che questa macchina sia effettivamente in grado di riconoscere gli ostacoli il rosso, il verde, un cantiere, macchine parcheggiate, macchine in movimento e decidere la velocità della macchina è spaventoso, è fantasticamente spaventoso diciamoci la verità, quando questa tecnologia diventerà solida, diventerà perfetta preferisco affidare la mia vita ad una macchina piuttosto che a un tizio sconosciuto che magari sta guidando e nel frattempo sta scrivendo alla ragazza le sta scrivendo lololol, hai visto quel gatto su Facebook? e facendo questo decide di Darwin su di me il computer non dovrebbe avere questo tipo di problema quindi prendendomi questo spazio su internet per salutare e rivenire con largo anticipo l'avvento del primo presidente del consiglio robot salve signore ho atteso la sua avvenuta da tempo parliamo un po' di umani vi va perché ad esempio questa signora 42enne Felicia Smith è la mia persona preferita di oggi e quando dico persona preferita sapete bene che deve essere accaduto qualcosa di fantastico la donna è infatti un insegnante o potremmo dire era un insegnante in una scuola di Houston, Texas e sarebbe stata sospesa visto che un video l'avrebbe incastrata e cosa avrà mai fatto questa insegnante di così terribile? meeee meeee la sfortuna della donna è che viviamo in un momento nel quale chiunque in qualsiasi momento anche gli studenti delle medie tristemente sono in grado di riprendere qualsiasi cosa con il proprio cellulare e mostrarlo a tutti e l'invidia è una brutta bestia evidentemente visto che l'accaduto è il seguente c'è uno studente che per semplicità chiameremo Billy e questo Billy ha 15 anni è uno studente delle medie e sta entrando in classe ma è anche il compleanno di Billy quindi sta entrando in classe da uomo di 15 anni e quale modo migliore per celebrare il primo quarto di secolo per un gentiluomo quale Billy è? di ricevere una lap dance dalla propria insegnante è una lap dance proprio una lap dance che viene definita dalle autorità una full contact lap dance ovvero la donna si è avvicinata al giovine strusciando i posteriori su di lui avanti e indietro ripetutamente e infine dopo aver infilato la testa fra le gambe di lui essersi sollevata, ricomposta e quale ottima insegnante quale evidentemente questa donna era averlo baciato sulla fronte e avergli detto I love you baby happy birthday Sfortunatamente per la donna appunto il video che evidentemente doveva essere di ottima qualità visto che le autorità sono riuscite ad intravedere non solo il giovane ragazzo che sculacciava più volte l'insegnante Breaking Italy è uno show per famiglie e su questo davvero non si può dire nulla sarebbero anche riuscite ad intravedere l'erezione del giovane il che è fantastico che sia sul report della polizia ma è anche tristemente Ilare che la polizia non abbia detto come è venuta in possesso del video che è palese che sicuramente qualche altro studente geloso ha fatto sapere ai propri genitori che questo è accaduto e quindi no morale della favola questa persona non è una buona insegnante se vuoi fare la lap dance a qualcuno lo fai a casa tua non a un tuo studente però le battute sono ben apprezzate potete farle nei commenti e ritorniamo un attimo a parlare di tecnologia però prima che chiudiate il video dicendo Basta nuove tecnologie parliamo di vecchie tecnologie parliamo di queste tecnologie qualcuno si ricorda di questa roba questo è un floppy disk perché inizialmente i floppy disk erano così ma nessuno ovviamente li utilizza più Giusto? Giusto? No sapete perché questi floppy disk si sono utilizzati per lungo tempo ad esempio in molti uffici pubblici italiani ad esempio anche molto dopo che erano stati superati ma addirittura utilizzare questo nemmeno i nostri peggiori uffici in cima alla montagna in un paese di 200 persone li utilizzerebbero ancora ma ad utilizzarli invece il che è tranquillizzante sicuramente sarebbero gli americani precisamente ci fa sapere la CBS in uno speciale registrato la scorsa settimana nelle apparecchiature per controllare i missili nucleari una nota giornalista americana infatti che segue un programma che si chiama 30 minutes è andata in uno dei siti dove vengono tenute le più grandi e pericolose armi atomiche degli stati uniti e del mondo tendenzialmente scoprendo che molte delle tecnologie presenti risalgono agli anni 60 e non sono mai state aggiornate non sono state aggiornate per varie ragioni e quindi sì avete visto ad esempio girare questo su internet benissimo non si applica al fatto che ancora il mondo potrebbe essere distrutto da un floppy disk a 8 pollici che pensate porta addirittura al suo interno ben 160 kilobyte di dati almeno nella sua versione originale che peraltro lo sapevate che il primo computer ad utilizzare questa roba è stato un Olivetti no? ora lo sapete ma questo gentaglio è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie a Fabio ed Elisa mi hanno mandato questa foto almeno un mese fa se non di più giusto per dire che erano al mare prima che la cosa diventasse di moda loro conoscevano il mare prima di noi che lo conosceremo spero tra un mesetto circa e chiedere troppo comunque la foto arriva dalla playa valenciana quindi grazie mille ragazzi siete vincete le cose oggi per tutti gli altri mi raccomando eh... drogatevi fate... uccidete i vecchi e queste cose qui e anche mettete mi piace fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle notizie di oggi ci vediamo domani con la live alle 18 ho fatto questa cosa quindi a questo punto potrei anche fare un inchino e sarà una cosa ridicola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti